allora stefano come promesso provo sto cazzo di valkyrie vediamo com'è tanto alla fine dirò che è una merda anche guarda manco lo salto ma lo guardo tutto il fermato iniziale la grafica mi aspettavo peggio da vicino insomma da lontano che buona merda unica 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 che proprio al polo nord sono andati questi dai meno risate più fucilate siamo pronti siamo pronti che poi non ho la minima idea di come si gioca questo gameplay di lord da un tasto qualsiasi già siamo troppo generici ok andiamo opzioni, cosa c'abbiamo? inglese, metto il giapponese, non me la lasciamo inglese parlante controller no perché tanto ho le cuffie non sentirei un cazzo non c'è niente di particolare dai proviamo cazzo perché però magari mi piace che me lo devo pure comprare non credo che avrò mai la versione completa il giorno che il nostro cazzo è morto il giorno che il nostro cazzo è morto alla fine abbiamo qualcosa di credere qualcosa che vale l'argo per l'argo ed è carino ci può stare un stile artistico guarda un po' tra un quest infetto generale da qui non è malissimo dai però giochiamo cazzo non cazzo non cazzo cazzo il orale Questa cosa è sempre contro gli imperiali, però che parla? Sempre gli imperiali cattivi. Ah ok, non siamo la sguota, meno male. Oh, che cazzo è? Non ho la minima idea di cosa devo fare, però ci proviamo. No, non lo metto. No, non lo metto. Non lo metto. Non l'ho mai fatto addestramento, in verità. Dai, dai. Precaricamenti? Caricamenti di che? Precaricamenti di che? Eliminare tutti gli imperiali. Parliamo di loro avanzamento. Squad E, fuori! All'insegnamento vediamo. Ammazziamo le altre persone. Che cazzo devo fare, dai? Che cazzo devo fare, dai? Ok. 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 Questa sarebbe razza, quindi che cazzo devo fare. Ma devo andare su razza. Ok. 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 Ok, ho la barra. Ok. Questo lo vi ho visto dai video di Lorde. ci arrivo fino a lì? ho messo a coionare se mi coionare mi incazzo però quindi corro fino a qua poi ok, adesso mi piace più R1 per entrare in un livello avversario mirino ah, ok ok quindi R1 sparo le spalle però sparo in testa come si spara con la X? povero ok ok, c'ho ancora parecchia cosa forse arrivo no, con quello mi sparo ok, con la X quindi per sparare eh, non posso sparare più devo terminare l'azione e basta eh, ma li facciamo secchi stai tranquillo tu sei invincibile, certo? eh è vero che si tratta di alcuni soldati comuni perché non ti parli e pensi dai dai appello il cecchino mi piace comando che ha cecchini e fino a qua facciamo dai tappezzaio zooma 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 e spariamo a testa insomma è scatto vabbè spariamo così e uno so quest'altro c'è nessun altro mi sa che è un altro cecchino ah non mi fa fa più che cazzata come si salta devo interrompere semplicemente posso uscire da qua fa culo che cazzata ah no ecco qua posso uscire però è rimasto che ha pettato qua ho fatto una cazzata ho fatto posso riprendere questo devo ammazzare questi no devo riprendere questo cazzo doveva concludi la fase eh a saperlo prima aspetta no scusa io lì c'ho ancora un coso perché non me lo fa ah vedi non me lo fa selezionare eccolo chi ha però da qua ah che bello e l'altro e l'altro e dove stanno sento gli spari ma non lo vedo uno sta troppo lontano non so che ci arrivo fino all'ad mettiamoci mettiamoci qua aspettiamo che arrivano loro ecco la difesa come si fa già fatto ma che cazzata non sparo un faccia da qua ok ok e per me non penso di aver capito che se uso sempre la stessa c'ho meno punti abilità però io userei un'altra volta al cecchino e fare secco questo a sti conto ci proverei dai perché non me lo fa prendere no ok da qua lo sparo in faccia ma i Sony mi ricarica sempre posso usare quei due ok colpo ciaone no perché vaffanculo e non posso sparare più ma vaffanculo che cazzata però manco l'altra arma c'è ogni azione un colpo solo vabbè cambiamo unità prendiamo questo vabbè non riesco a sparare qua ah è stato lontanissimo però ho fatto una cazzata vabbè non devo ancora sparare per forza però non ciò che vuoi ma è il modo qua di sparare un po' meglio ti dici ma è il modo qua di sparare un po' meglio ti dici ammazza mi ha fatto un cazzo oh basta basta prenderei quasi col cecchino io scendiamoci un po' con questo speriamolo un po' sto in testa magari qualcuno a cazzo gli arriva ah dai siamo quasi potrei anche riprendere questo a sto molto se ho capito bene però giusto? più vicino rischio troppo speriamo di da qua cerchiamo di prendere sempre con testa perfetto è loro il nostro che cazzo che cazzo ma c'abbiamo pure noi proviamoci tutorial carimatic eh ma va posso restare e sparare i soldati e continuiamoci a tutta sotto possono ripararci questi dietro ok 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 va bene eeeh devo concludere forza sì ok ah sta riaccaramato cazzo però che devo fare qua? posso fare niente? oh ha finito però già capito a che cazzo ha sparato ok caramato non c'è che cazzo ha cambiato non cazzo non c'abbè troppo troppo non c'abbè è brutto vabbè va bene che cazzo forza di fianco era meglio C'è una mitragliatrice montata? Ok, io devo sparare il carro armato, quindi va bene il proiettile per fronte. E qua che ti faccio più male? Sempre credo, lo prendo, lo prendo. Allora spariamo al centro. Vai! Farmo un colpo solo? Per i mortacci tu? Perché un colpo solo? Per prima era un colpo solo? Eh, dove cazzo l'avevo adesso? Sono rimasto un culo. Posso andare un po' di fianco. E poi gli sparo di fianco. Riprendo il carro armato. E' cingoli? Ah! E' cingoli subito? Che cazzo! Ok, ce la dovrei fare, dai! Eh, qua va benissimo. Lo so troppo vicino. Dai beccate questo. Mori. Già finito. E' cazzo. E' cazzo di fiori. E' cazzo. E' cazzo di fiori. Ce ne faremo una ragione. Ci ne faremo una ragione. Un comandante ancora ha un cuore. Lo stesso come un cuore. Il rank non rende questo più più doloroso. Ah, ma cricendo sui fiori? Anche le piccole donne hanno delle balle più grandi questi giorni. Sì, direi proprio di sì. Ma chi è questo frocio? Scusatemi di fiori. Blah, 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 blah. Guarda, andate già avanti il tuo rapporto, ok? Non puoi andare a sbagliare se stiamo qui a stand-by. Buon punto. Andrò al centro di command. Eh, tu fai questo. E... Dicendo ai Brass di mandare a noi tuffere imps per combattere la prossima, sì? Ma va bene anche così, in realtà. Non è un mezzo facile facile. Quindi... Grato che... Che cazzo è buono? Sarà buono? Non so se è buono. Vado avanti. Proline. Operation Northern Cross. Questo deve essere una macchina della seconda guerra europea. Guardando questo diario, ok? Ok. Salviamo. Anche se non penso che mi serva più di tanto. Tanto... non durerà tantissimo sta... sta cosa. Quindi questo l'ho fatto, posso dare quest'altro due? Eh? Oh, questo era questo. No. Uno, due, tre... Oghi. Oh, due, due, qui? Un problema a mettere qui su. Sottotai. Grazie a tutti.